Ciao! Lo sapevi che alcuni animali sembrano percepire i terremoti prima degli esseri umani? E sì, un esempio famoso è quello del 1975 in Cina. Nella città di Heicheng, serpenti, topi e uccelli fuggirono improvvisamente. Alcuni uscirono addirittura dall'etargo in pieno inverno. Pochi giorni dopo, un terremoto di magnitudo 7.3 colpì la zona. Grazie all'osservazione di questi segnali, le autorità evacuarono la città. Furono salvate così migliaia di vite. Ma quindi è vero che gli animali prevedono i terremoti? Mmm, sì e no! Secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti, gli animali possono percepire le onde P, le prime onde sismiche, che arrivano a pochi secondi prima delle scosse forti. Le sentono con l'udito o attraverso le zampe come vibrazioni nel terreno. Però la scienza è chiara. Non ci sono prove che gli animali prevedono i terremoti con largo anticipo. Il caso di Heicheng è considerato unico e non è mai più stato replicato. Quindi sì, gli animali possono percepire un terremoto, ma pochi istanti prima di noi. Non possono prevederlo con largo anticipo. E tu, hai mai notato comportamenti strani nel tuo animale? Scrivimelo nei commenti. Se ti è piaciuto, iscriviti al canale e lasciami un like. Ciao, alla prossima!